Niente da fare per la cius video rete allo spagnolo e volato, nel vero senso della parola, a Tenerife tornando al club Canaria. La squadra con cui due anni fa ha conquistato la vittoria nella prima edizione della Basketball Champions League, il coach 52enne ha firmato un contratto triennale e di conseguenza non verrà ad Avellino il prossimo anno. Nicola Alberani, infatti, ora è alla ricerca di una nuova soluzione tecnica ed attende, come sempre, anche il solito consenso della proprietà. Prima però ci dovrà essere la decisione sul nome condiviso da entrambe le parti. Luca Banchi, per il momento, è stato messo in ghiaccio e la dirigenza erpina valuta di nuovi profili, tenendo sempre aperta una pista straniera perché De Cesare pare non l'abbia esclusa, ma c'è da capire su quale tipo di profilo si debba andare. Tra i nomi dei tecnici italiani invece ci sono sempre i soliti noti, come Maurizio Buscaglia, che però è da liberare entro il 20 giugno, pagando peraltro un buyout, e soprattutto Lele Molin, tecnico della navigata esperienza nel ruolo di assistente, ma che ha avuto poca fortuna da capo allenatore. Restano anche cancellieri ed Alessandro Magro, ma Nicola Alberani potrebbe preparare un colpo a sorpresa.